Pier Giorgio. Pier Giorgio è pronto. È il momento di affrontare la Cleric Beast. Pier Giorgio chiedeva 2 euro per il biglietto del treno alla stazione di Roma Termini? Sì, Riser. Pier Giorgio conosce le mosse del nemico. Niente può coglierlo impreparato. Neanche questi barili. Lui sa che tutto potrebbe essere una minaccia. Non mi è chiaro se Pier Giorgio segue pomeriggio 5. Pier Giorgio lo fa. Pier Giorgio sa quando è il momento di aspettare. E anche quando è il momento di sparare. Guardate la chiesa, il cielo. La notte. Pier Giorgio prova a colpire il braccio della Cleric Beast in quanto quello è il suo punto debole, ma non ci riesce. Se mi fai la cortesia di appoggiare quel cazzo di braccio, Pier Giorgio potrebbe fare un visceral. Pier Giorgio non usa il target in questo fight. Perché questa arena fa schifo al cazzo dal punto di vista della visuale. Pier Giorgio sta pushando troppo. Pier Giorgio è morto.